Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video il video di oggi sarà su Amnesia e faccio su Amnesia perchè Penumbra non interessa a nessuno mi sono accorto anch'io perchè è noioso eccetera e quindi proviamo con Amnesia perchè penso che sia più bello e parto subito con una custom story perchè la storia principale è troppo lunga cioè prima che ci sia paura e cose varie e ce ne vuole quindi parto con una custom story se vi piace continuare questa serie o no o meno se giocare alla storia principale o meno cioè se è la storia principale o custom story e se vi piace o no quindi partiamo è una storia che si chiama così possiamo sapere già cosa aspettarci non promette bene oh oh ok ah ci sono vedo un cazzo ok ok Grazie a tutti Ok, cominciamo bene. Vaffanculo, mi ha fatto... Oh, mi ha fatto saltare. Adesso fa il culo. Cominciamo bene. Mi sape da scurt. Oh. Si, ho la porta aperta, che sempre mi hai. Oh. 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 La scuola è stata costruita la scuola, e la scuola è stata costruita la scuola. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Oh... 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 Oh...